Ho l'onore e l'orgoglio di conferire la delega ai rapporti con i cittadini residenti all'estero all'amico compaisano D'Agostino Demetrio. Giovanni Fortunato, sindaco del comune di Santa Marina, ha consegnato sabato 9 luglio la delega rapporti con i concittadini residenti all'estero a Demetrio D'Agostino, nato a Santa Marina il 13 febbraio del 1966, sposato, due figli, emigrato in Svizzera da 35 anni, ma fortemente legato alla sua terra natia, alle tradizioni e alle persone. Presente alla cerimonia di consegna la moglie Cristina ed il figlio 14enne Flavio, il primo cittadino che ha consegnato il riconoscimento a amministratori e amici. Le emozioni sono tante concretamente, però soprattutto il fatto che io possa ritornare nella mia terra nativa ringraziando l'amministrazione Fortunato, tra parentesi, per me è un onore e dunque io andrò fino in fondo e soprattutto per riportare delle persone che hanno abbandonato nella vecchia amministrazione di venire nel territorio. Io sono un po' così, sono un progetto pilota di tutto ciò. Allora io sono molto onorato e soprattutto emozionato, grazie comunque all'amministrazione Fortunato. Da quanti anni lei è all'estero? Io sono quasi 35 anni che me ne sono andato, cioè i miei genitori stavano già lì e tra parentesi mi sono fermato lì. Ho provato uno o due volte a rivenire, però con le vecchie situazioni non era possibile. Oggi vedo che è possibile per me e soprattutto per i miei figli, che possono ritornare nella terra nativa mia. Non c'è altra cosa più bella per un padre. Cosa le manca dell'Italia e del suo paese? Mi mancate voi, tra parentesi. Cioè i miei amici da sempre, l'onestà, un cuore grande come l'oceano, che non si trova all'estero, tra parentesi. Noi facciamo parte di questa terra qua, no di un'altra. Per il sindaco Fortunato l'incarica è una scelta meditate e opportuna, perché la comunità emigrata all'estero dal 2007 a oggi ha sempre creduto nel progetto di riscatto del territorio espresso dall'amministrazione Fortunato. Con orgoglio e passione abbiamo dato questo riconoscimento che è un simbolo, ma è un simbolo che fa capire che la mia persona e tutta la mia amministrazione è vicino sempre di più a chi è stato costretto e ha avuto meno fortuna perché è emigrato all'estero lasciando i rapporti, la propria terra e i propri carri. Io butto una sfida, il prossimo anno l'amministrazione, questo lo possiamo fare, finché almeno 20 giovani studenti e figli dei nostri emigranti possono venire in estate a soggiornare nella terra dei padri per almeno 10 giorni a totale carico del comune. Noi stiamo facendo di tutto affinché i nostri figli non emigrano, oppure è una scelta loro, ma non è una cosa obbligata. Stiamo facendo di tutto affinché loro possono ritornare nella terra nativa e i loro figli possono restare ancora legati ai legami dei loro padri, dei loro avi. L'abbiamo data a Demetrio D'Agostino per mantenere vivo il legame tra noi e la comunità estera. Sono certo e convinto che può rappresentare e rappresenterà tutti gli emigranti all'estero, creerà le condizioni per creare ancora sinergia e creare anche delle progettualità condivise per il prossimo futuro.